All'armi a Civitate Cavuno questo venerdì nel primo pomeriggio attorno alle 13.30 per la nera colonna di fumo con alte fiamme che uscivano dal piano terra di un'abitazione di via Roma al Civico 30 all'imbocca dalle zone industriali a sud del paese. La casa, composta da un piano terra con officina, magazzina e garage, da un primo piano e da un secondo piano ammazzardato con appartamenti, ha subito gravi danni a causa delle fiamme, alimitate anche dal forte vento, che hanno richiesto l'intervento di ben quattro squadre di vigili del fuoco, due da Darfo, una di effettivi e una di volontari, oltre alla squadra di Breno e di Lovere. Per avere ragione delle fiamme, smassare materiale cattastato al piano terra, verificare e mettere in sicurezza gli altri due piani, ci sono volute oltre tre ore. Alla fine la casa è stata dichiarata provvisoriamente inagibile. Sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia dell'Unione degli Antichi Borghi per i rilievi di legge, mentre i carabinieri di Breno hanno collaborato per regolamentare la viabilità della zona molto trafficata a causa della rotatoria che immette nella zona industriale e verso la superstrada 42. Le cause dell'incendio non sono state accertate con certezza a causa della vastità dello stesso e del forte vento che ha reso difficili le operazioni di intervento e non riconoscibile la causa di innesco. Nei locali a piano terra erano ammassate infatti varie attrezzature, pezzi meccanici, motori, ciclomotori e ape car, tutti pezzi storici, frutto di una passione per il collezionismo. Le fiamme hanno distrutto completamente ogni oggetto e danneggiato in modo grave, officina, magazzino e garage.